Tragico weekend lungo la costa del Cilento. Sabato scorso la Grotta del Sangue di Palinuro ha inghiottito quattro sub, due quarantenni romani, una giovane salernitana e un ragazzo greco di 23 anni. Sarebbe stato il fango sollevatosi dal fondale a far perdere l'orientamento ai sub. La ricostruzione di quei momenti drammatici emerge dal racconto degli altri quattro sommozzatori sopravvissuti alla tragedia. Doveva essere una escursione piacevole e tranquilla come tante, ma sfortunatamente si è trasformata in tragedia. I quattro che si sono messi in salvo probabilmente hanno percepito in tempo la situazione di pericolo, ma hanno perso di vista gli altri, rimasti incastrati nella grotta. Il quadro definitivo dell'accaduto emergerà dall'indagine aperta dagli uomini della Capitaneria di Porto e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, secondo cui ci sarebbero delle responsabilità da chiarire. Inquirenti ed esperti provano a ricostruire i fatti e a capire cosa sia successo sabato mattina in quella grotta. Dagli interrogatori è emerso anche che per motivi ancora oscuri il gruppo di otto persone immersosi nei fondali ha scelto di seguire un percorso alternativo a quello consueto. Una scelta che potrebbe essersi rivelata fatale perché gli escursionisti si sono ritrovati in uno stretto cunicolo di roccia, al buio totale dal quale è stato difficile uscire. Non è esclusa però la possibilità che si sia verificato un crollo improvviso. Intanto gli esami effettuati dal medico legale hanno confermato l'annegamento come causa del decesso. La grotta del sangue, così chiamata per l'intenso rosso che si accende sulle sue pareti, è una delle 35 grotte che puntellano Capo Palinuro, fondali meravigliosi ma pericolosi, dove già altre persone in passato hanno perso la vita. Grazie a tutti.